Prima il parcheggio multipiano, poi il parco. Entro la fine del 2026 l'area di risulta di Pescara sarà riconsegnata alla città dopo la realizzazione di una parte dei lavori dell'imponente opera di riqualificazione della zona dell'ex stazione ferroviaria. L'annuncio dell'appalto della progettazione esecutiva del primo lotto è stato fatto in conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci alla presenza della Giunta e del presidente della Fondazione Pescara Bruzzo, Nicola Mattoscio, che realizzerà l'area verde. Noi avevamo preso un impegno con i pescaresi, avevamo detto che entro la fine dell'anno avremmo individuato la ditta appaltatrice dei lavori dell'area di risulta del primo lotto. Questo è successo, precisamente ieri è stata giudicata la gara, la ditta vincitrice su 16 ditte che hanno partecipato è il consorzio stabile di Catania che provvederà a realizzare il parcheggio lato sud e a fare il progetto esecutivo del parco che poi sarà invece realizzato dalla Fondazione Pescara Bruzzo. Un investimento importante che mette fine a una querelle dell'area di risulta che è durata 37 anni perché l'ultimo treno in quella stazione è passato 37 anni fa e oggi mettiamo un sigillo importante per la crescita di Pescara, il grande parco al centro della città, i parcheggi necessari, questo è il primo. Poi noi abbiamo anche altri 20 milioni di euro a disposizione per l'area di risulta e realizzeremo il secondo parcheggio e attrezzeremo l'area che rimane, quindi c'è un investimento veramente significativo. Ultimati i lavori del parcheggio che avrà un costo di 8 milioni e 300 mila euro di fondi regionali si procederà dunque alla realizzazione del parco centrale che sarà finanziato dalla Fondazione Pescara Bruzzo per un importo di 4 milioni di euro. Noi abbiamo 13 ettari al centro della città che da troppi anni sono soltanto uno spazio asfaltato, così avviamo un processo che finalmente si concretizzerà. Adesso la ditta che firmerà il contratto è il 28 dicembre, avrà 4 mesi di tempo per fare il progetto esecutivo e ci confronteremo con gli uffici proprio per fare il miglior progetto esecutivo possibile. Poi inizieranno i lavori che dureranno circa 400 giorni. La fondazione invece provvederà a realizzare il parco. Ringrazio il professor Mattoscio per quello che ha fatto e per quello che continua a fare per la nostra città. Gli uffici che hanno lavorato tantissimo, il consiglio comunale, gli assessori, perché questa è una conquista di tutti, è una conquista per la crescita della nostra città. E cogliamo un obiettivo storico che per troppo tempo è rimasto solo una chimera e che invece oggi vede la sua attuazione.